Scandalo a striscia la notizia. Segreti e rivelazioni esplosive durante l'ultima puntata con gli ospiti Ezio Greggio e Denzo Iacchetti. Olga Durano, celebre per il suo indimenticabile ruolo di professoressa senza mutandine, in drive-in, ha svelato dettagli piccanti su Mirta Merlino. Ma prima di svelare gli scottanti dettagli, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Durante la sua partecipazione, Olga ha dichiarato di essere molto amica di Mirta Merlino, affermando con sicurezza che anche la conduttrice di Pomeriggio 5 segue la sua stessa moda senza mutandine. Antonio Ricci, maestro dei fuorionda divertenti, non poteva lasciar passare l'occasione di tirare fuori qualche siparietto sul tema. Nonostante nessuno avesse mai dubitato di questa verità, l'ombra dei fuorionda di Gian Bruno è tornata in studio, regalando un momento esilarante e scherzoso. Ma attenzione! Il fuorionda su Mirta Merlino ha avuto una svolta inaspettata, dimostrando in modo divertente che la conduttrice di Pomeriggio 5, contrariamente alle voci, indossa regolarmente le mutandine. Voi cosa ricordate di drive-in? Condividete i vostri ricordi nei commenti e raccontateci il vostro pensiero su questa mitica trasmissione che ha segnato un'epoca.